L'attività della Guardia di Finanza in tutto il territorio nazionale e anche nella regione Abruzzo si sviluppa attraverso missioni strategiche. Le principali missioni sono quelle del contrasto, dell'evasione e dell'illusione fiscale. Ovviamente cerchiamo di colpire i fenomeni più gravi e insidiosi, ma non solo, anche quello di fare in modo che la spesa pubblica, comunitaria, nazionale e degli enti locali sia finalizzata nel miglior modo possibile. Così il generale Flavio Agnello, comandante regionale della Guardia di Finanza, che oggi ha illustrato il bilancio operativo annuale delle fiamme gialle in Abruzzo nel 2015. Nei numeri snocciolati una panoramica del malaffare economico in Abruzzo. Per quanto riguarda l'evasione e la frode fiscale sono state 267 le persone denunciate, di cui 8 arrestate. 194 gli evasori totali sconosciuti al fisco. Ammonta 88,6 milioni di euro i beni sequestrati. E ancora 217 sono i lavoratori in nero scoperti, 120 datori di lavoro denunciati. Sul fronte del contrasto al gioco e alle scommesse illegali, 25 le violazioni riscontrate. Altro fronte caldo quello degli illeciti in materia di spesa pubblica e legalità nella pubblica amministrazione. 62 le denunce per contributi europei indebitamente percepiti, per un ammontare di 3,4 milioni di euro, a cui si aggiungono 81 denunce per frodi relative a finanziamenti nazionali per 20,3 milioni. Altro dato su cui riflettere, dei 211 controlli eseguiti sulle prestazioni sociali, la metà 104 sono risultati irregolari. E poi la ricostruzione possismica, 46,5 milioni contributi illegitamente richiesti, 49 soggetti segnalati all'autorità giudiziaria. Intenso anche il contrasto alla produzione e distribuzione di prodotti contraffatti. 102 le denunce, 4,4 milioni le unità di prodotto sequestrate, 3,1 milioni per violazione della normativa Made in Italy. In che modo si misura, si tocca la presenza della criminalità organizzata in territorio abruzzese? La loro presenza si misura allorquando hanno interesse a reinvestire i profitti di attività illecite svolte altrove. Il territorio d'Abruzzo è un territorio dove è facile poter tentare quello che noi chiamiamo riciclaggio di denaro sporco perché qui ci sono numerose provvidenze che sono finalizzate alla ricostruzione possisma. Ecco quindi che la criminalità organizzata che nasce da fuori, il territorio d'Abruzzo non è il luogo dove nasce la criminalità organizzata, però trova qui terreno fertile e sentinelle attenti.